La molitura è il momento in cui i chicchi, accuratamente puliti da qualunque residuo della raccolta, vengono rotti e privati di tutte le parti meno nobili. La semola migliore nasce quando si preleva solo il pregiato cuore del grano duro, spogliando dolcemente i chicchi di tutti gli strati, attraverso un procedimento lento e delicato. Sono 5 i prodotti realizzati dalla molitura del grano. Di essi solo il 60% verrà effettivamente utilizzato per produrre pasta. Infine, la semola migliore avrà una grana grossa, più difficile da lavorare, ma l'unica in grado di ottenere il miglior rendimento in cucina. Con un molino di proprietà è più facile utilizzare sempre semola fresca.